È febbraio ma a Gualdo Tadino è tempo di parlare di giochi delle porte perché il palio settembrino ha già messo in moto la sua macchina organizzativa con la nomina poco più di una settimana fa del nuovo gonfaloniere nella persona del priore di San Donato Roberto Cambiotti ma anche per un botte in risposta istituzionale che si è consumato nella giornata odierna. Tema la sicurezza del percorso di gara durante la manifestazione di fine settembre dopo quanto accaduto nel 2016. A ricordare i fatti trascorsi oggi è stato il sindaco Massimiliano Presciutti in una nota in cui dava conto della volontà dell'amministrazione comunale di convocare per il prossimo 14 febbraio alle ore 15 presso la sala giunta un tavolo di lavoro interdisciplinare che si occupasse della sicurezza in merito allo svolgimento dei giochi. L'argomento era stato discusso in sede di conferenza dei capigruppo ed aveva avuto il placet del presidente del consiglio Fabio Pasquarelli e dei capigruppo consigliari di maggioranza e minoranza presenti alla conferenza. Presciutti in quella sede ha ricordato quanto accaduto nel settembre 2016 quando a pochi giorni dalla festa il funzionario ministeriale preposto alla verifica delle condizioni di sicurezza aveva sollevato dubbi sul percorso. All'epoca spiega oggi il sindaco mi sono personalmente assunto la responsabilità di far svolgere regolarmente i giochi ora però bisogna affrontare la questione in tutti i suoi aspetti. Da qui la convocazione del tavolo composto dalla conferenza dei capigruppo consigliari allargata la partecipazione del gonfaloniere Roberto Cambiotti del presidente dell'ordine provinciale dei veterinari Sandro Bianchini dei veterinari dell'ASL Umbria 1 Elide Colini e Fausto Cambiotti e del professore Antonio Pieretti in qualità di storico. Alla richiesta però l'ente con il suo gonfaloniere Cambiotti ha sempre in giornata con lettera protocollata risposto picche. L'ente non ci sarà non per scortesia ma per forma. Cambiotti nella missiva ricorda all'amministrazione comunale che l'ente non ha ancora provveduto a nominare il nuovo presidente dopo l'uscita di Sergio Ponti. Atto questo fondamentale prima di discutere di qualsiasi tipo di attività ed organizzazione. Il tema sicurezza sta a cuore all'ente in qualità di organizzatore unico della manifestazione quanto al comune tanto da aver già iniziato a lavorare sull'istituzione di una commissione per la sicurezza con la finalità di stilare un piano non solo relativo ai giorni del paleo ma anche per tutte le manifestazioni collaterali. Ma il passaggio della missiva destinata a far parlare di sé tuttavia è quello in cui Cambiotti fa presente con un carattere in grassetto che sa di affermazione orgogliosa che l'ente è l'unico soggetto deputato all'organizzazione dei giochi e ad oggi non ha ancora certezza sullo svolgimento dell'edizione 2017 né sul luogo di svolgimento della stessa. Provocazione, verità, si vedrà ma non prima spiega Cambiotti della nomina del nuovo presidente attesa nel giro di poche settimane.